Adesso facciamo un gioco. Se tu scegli la carta che scelgo io, questo messaggio sarà per te. Uno, due e tre. Tre. Se sarà un incontro? Sì, sarà un incontro, sarà una festa. Qui l'uomo già sta pensando a invitarti da qualche parte, però per il momento lui ancora non lo sa quando perché deve equilibrare qualcosa nella sua vita. Può essere che è una domanda materiale. Questo uomo vuole venire con qualcosa, lui ti vuole invitare a una cena, cioè lui deve avere i soldi per farlo. Per il momento vedo che ce l'ha un po' di difficoltà e sta pensando, sta pensando. Sì, qui ci dice certo, sarà un incontro e sarà un incontro bello e questa iniziativa sarà dalla parte dell'uomo.